Intorno al Novecento l'industria fratese cerca nuove vie di espansione, ormai si era già consolidata a nord del centro cittadino, il centro cittadino era completamente intasato e quindi il nuovo asse di sviluppo dell'industria fratese diventa quello a sud. E in là a questa nuova espansione la dà un'attività che da secoli si trovava nel centro cittadino e che adesso si voleva portare al di fuori perché era un'attività insalubre. Si trattava degli ammazzatoi, come si chiamavano all'epoca, ovvero i macelli pubblici che si trovavano appunto in pieno centro cittadino. C'è una lunga diatriba, una lunga discussione su dove collocare questi nuovi macelli e infine si trova come collocazione ideale l'area al di fuori di Porta Santa Trinita che all'epoca era completamente inedificata. Si va a collocare in un'area che all'epoca si chiamava le girandole. Non sappiamo esattamente a cosa si riferisse questo toponimo, questo nome di luogo, ma è quasi probabile che siccome qui scorreva la gora di Gello che usciva dalle mura trecentesche e poi si inoltrava appunto nelle campagne verso sud, che su queste gore fossero presenti dei sistemi per il sollevamento delle acque, ovvero delle norie, come ancora avviene nel Medio Oriente. Queste norie che appunto si potevano vedere nella gora rassomigliavano appunto a delle girandole. Quindi inizialmente quest'area è chiamata così, anche se poi con il tempo questo toponimo finisce per scomparire. Appena realizzati i macelli intorno agli inizi e primissimi del Novecento, alle sue spalle cominciano a nascere anche alcuni stabilimenti industriali. Tra i primi sono gli stabilimenti di Morelli e poi arriverà Lucchesi, che aveva lavorato quando era giovanissimo proprio all'interno della fabbrica Morelli, che costruirà il suo stabilimento quasi addossato alle mura trecentesche. Ma poi inizierà anche tutta una serie di nuove costruzioni che cominceranno a protendersi verso il sud della Piana Pratese. Tra questi stabilimenti uno dei più importanti è lo stabilimento dei fratelli Bini, che nel 1919 già possedevano un grande appezzamento di terreno al di fuori delle mura, appunto in località delle Girandole. E questo terreno aveva la caratteristica di essere lambito appunto dalla Gora di Gello, che, come è noto, all'epoca la presenza della Gora diventava piuttosto importante per costruire un'attività imprenditoriale. Inizialmente i fratelli Bini chiedono la concessione al comune di Prato per la realizzazione di un piccolo stabilimento che si affacciava su quella che era la via Cavour, cioè la via che lambiva le mura. Però solo dopo alcuni anni cambiano idea, cambiano idea e decidono di costruire uno stabilimento ben più grande, ben più importante, e non daranno più accesso, non chiederanno più l'accesso dalla via Cavour, ma chiederanno l'accesso da una strada che loro stessi realizzeranno che diparte dalla via Cavour, che è l'attuale via Genova. Lungo questa via Genova apriranno uno stabilimento di importanti dimensioni, che ha anche un disegno abbastanza diverso e importante rispetto alle altre fabbriche, perché è organizzato intorno a una corte perfettamente quadrata e anche l'aspetto stilistico si rifà a una sorta di razionalismo architettonico. Infatti, anche se oggi non sono più perfettamente leggibili, sulla facciata esistevano degli archi a sesto pieno, insomma, non a sesto ribassato, come solitamente si costruivano le fabbriche in quel periodo. Organizzano una fabbrica a ciclo completo, dove non pensano più di fare una raccolta e lavorazione degli stracci, ma partono dalla lavorazione degli stracci per arrivare a tutte le fasi dell'industria. Realizzeranno addirittura all'interno, anche in maniera abbastanza innovativa, una mensa per gli operai che divideranno in maniera rigida tra uomini e donne. Questo stabilimento proseguirà negli anni in maniera piuttosto importante e poi darà il via, l'avvio, diciamo, a tutta la sequela di fabbriche che dallo stabilimento Bini in poi, appunto, andranno verso il sud della città fino a farlo diventare un tessuto estremamente compatto. Questa attività, via via, come tutte le attività, ha questo, diciamo, decorso naturale per cui diminuisce progressivamente. Alcune parti vengono affittate, vengono costruite delle superfetazioni per cui non si legge più questo impianto limpidissimo che stava attorno alla corte quadrangolare, addirittura la corte viene divisa da un muro e parte di questo stabilimento via via va in dismissione fino a quando nel 2005 è in gran parte dismesso e però incredibilmente in questo periodo comincia ad avere una nuova vita perché alcuni artisti, come spesso succede nelle città industriali, si insediano in questi spazi vuoti e cominciano a realizzare delle attività culturali e artistiche. Tra i primi a insediarsi in quest'area c'è il progetto di SC17, dichiara Bettazzi, che ancora oggi anima questo complesso e che è appunto da qui che parte tutto il progetto TAI in cui è incluso appunto il recupero delle vecchie fabbriche insieme ai progetti artistici. Grazie. Grazie. Grazie.